Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Con delle bellissime parole, finalmente e orgogliosamente sbaglierate davanti a chiunque su Instagram, e dei dolcissimi scatti di coppia, un iconico protagonista di Amici di Maria De Filippi ha fatto coming out Occasione colta dal ballerino nel giorno del compleanno del suo compagno, che ha elogiato con amore Il fotografo ufficiale della coppia è chiaramente il compagno del ballerino, che sarà per sempre legato a Maria De Filippi come al programma Amici, alla scuola che gli ha insegnato tanto Una storia d'amore, la sua, che dura da diversi anni. Sei per la precisione, come ha spiegato l'innamorato facendo coming out Con lui da sei anni, il coming out del ballerino di Amici. Alla persona che è stata al mio fianco in questi ultimi sei anni Alle avventure, alle esperienze di vita, che abbiamo condiviso Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in tutta la mia vita e in grado con la sua macchina fotografica di catturare anime invece che persone, ha cominciato il talento uscito da Amici nel 2007 ed ancora, all'amico, amante, fratello, all'anima che giorno dopo giorno rende la mia vita migliore La splendida ed emozionante dedica si è conclusa con la speranza che questa favola duri per sempre È l'augurio che di rimbalzo fanno tutti a Francesco Mariottini, simbolo di Amici 7, che venne vinto da Marco Carta Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo a altri mille anni, percorrendo il cammino insieme, a chiuso Bella coppia, siete bellissimi, amore vero, coming out di aguri Dolce, scrivono i fan complimentandosi con loro.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao